in un luogo incantato con un panorama da sogno trovi la trattoria o napolitana piatti della tradizione come ragù pasta e patate cotica imbottita minestra maritata una genovese da urlo e prodotti esclusivamente a chilometro zero viene a trovarci siamo a serrara fontana in piazza quattro novembre trattoria o napolitana la buona tavola è un'emozione noi te la facciamo vivere da oggi la burocrazia non è più un problema la professionalità e la preparazione dell'avvocato salvatore serpico e del suo staff saranno a disposizione dei cittadini con il patronato enac si assicura assistenza per pensioni infortuni sul lavoro con imps e inail invalidità civile accompagnamento 104 versamento contributi e molto altro ancora il caf uc si prende cura della dichiarazione dei redditi del modello 730 e unico della dichiarazione isa è necessaria per accedere ai bonus statali ma anche di naspi redditi e pensioni di cittadinanza tutti i servizi in un unico ufficio insieme all'assistenza legale nonché medico legale siamo a forio in via giovanni mazzella 50 e a casa micciola in piazza bagni liberati delle tue pratiche affidati a noi il risultato è garantito un ricco e variegato assortimento di birre nazionali e internazionali alla spina in bottiglia e in lattina selezione di carni nazionali ed estere ampia carta di vini locali nazionali e internazionali hamburgeria e tanto altro lasciati coccolare dai sapori ti aspettiamo da figaro siamo a ischia in via francesco sugli uzzo 14 ex m 9 nei pressi del cinema excelsior figaro semplicemente da leccarsi i baffi ischia motor da sempre il tuo punto di riferimento sull'isola d'ischia vendita di motocicli veicoli commerciali biciclette elettriche tutto per l'agricoltura e poi una vasta gamma di caschi ed accessori ma anche microcar per teenagers ed adulti ti aspettiamo ci trovi a forio in via casa fiorentino ischia motor mettiamo in moto la tua voglia di due ruote con ischia wifi ti innamorerai di internet perché con le nostre diverse tecnologie resterai sempre connesso e lo sarai a un prezzo unico e per sempre solo a 24 euro e 90 al mese non aspettare sii veloce come quando navighi con noi attiva ora hai mai pensato a quanto potresti risparmiare con un impianto fotovoltaico i nostri clienti in ogni angolo dell'isola d'ischia l'hanno fatto e hanno ridotto drasticamente i costi delle loro bollette energetiche ci prendiamo cura di tutto noi dalle pratiche per farti ottenere i bonus statali all'installazione e manutenzione degli impianti contattaci oggi stesso allo 081 99 7320 per una consulenza gratuita investi con nibbio sull'energia solare e illumina il tuo futuro scarica l'app di nuvola tv resta sempre aggiornato con le ultime edizioni video le news e le dirette live resta collegato con la tv dell'isola d'ischia clima un rapporto racconta ischia nel duemila e cinquanta presentato oggi pomeriggio ai giardini ravino lo studio elaborato dalla banca europea degli investimenti teso anche a favorire una ricostruzione climaticamente sostenibile dopo le calamità del 2017 e del 2022 progetto condiviso isola più resiliente a nuvola tv le dichiarazioni della vicepresidente dell'albei gelsomina vigliotti e del commissario straordinario giovanni legnini concordi nel sottolineare la bontà dell'iniziativa e soprattutto la sua utilità per il futuro sviluppo del territorio paura a napoli 44 feriti al beverello la motonave isola di procida finisce contro la banchina durante la manovra di ormeggio tanti i feriti nella collisione uno di questi ricoverato in codice rosso scatta l'indagine per accertare la causa del sinistro non si esclude nessuna ipotesi nuova vita per le spiagge rischia entra nel vivo il maxi progetto per il ripascimento degli arenili isolani che da tempo attendono questo restyling non più procrastinabile una serie di recenti accelerazioni fanno sorridere giuseppe la franca e il comparto dei balneari buonasera ai telespettatori di nuvola tv edizione di venerdì 19 aprile del nostro giornale come i cambiamenti climatici trasformeranno ischia nel 2050 uno studio utile a pianificare anche una ricostruzione sostenibile dopo le calamità che hanno sconvolto in particolare casa micciola terme nel 2017 2022 oggi pomeriggio presentato il rapporto della banca europea degli investimenti a forio presso i giardini ravino i dettagli nel servizio di apertura come cambierà il clima sull'isola di ischia da qui al 2050 in che modo la pianificazione degli interventi post calamità potrà essere orientata con adeguamenti capaci di contenere rischi e vulnerabilità determinati proprio dalle sfide ambientali le risposte sono contenute in uno studio innovativo che la banca europea per gli investimenti ha elaborato gratuitamente e presentato oggi nel corso di un'iniziativa promossa dalla vicepresidente della bei gelsomina vigliotti e dal commissario straordinario giovanni legnini tenutasi nel parco botanico giardini ravino a forio all'evento è intervenuto tra gli altri in collegamento per portare un proprio messaggio anche il ministro dell'ambiente della sicurezza energetica onorevole gilberto pichetto fratin frutto di un'intensa attività di analisi il rapporto bei fornisce una visione chiara delle sfide ambientali e dei rischi climatici futuri proponendo soluzioni innovative e resilienti per affrontarli strutturato in due parti è composto da una prima dedicata alle analisi dei rischi e delle vulnerabilità derivanti dal cambiamento climatico da qui al 2050 mentre la seconda si concentra sulle valutazioni economiche e finanziarie con un'analisi costi benefici e indicazioni sul rafforzamento della gestione dei progetti nell'isola d'ischia il rapporto tra l'altro evidenzia in particolar modo un aumento previsto degli eventi meteorologici estremi nei prossimi decenni come piogge intense e aumento del livello del mare restiamo in argomento perché ai nostri microfoni la vicepresidente della banca europea degli investimenti gersomina vigliotti sottolinea la bontà dell'iniziativa rimarcando il fatto che il progetto sia stato condiviso da tutti gli attori e le parti in causa ascoltiamola per noi questo è un modello è un modello perché prima di decidere un finanziamento vogliamo capire dal punto di vista tecnico quali sono gli interventi necessari qual è il possibile impatto dei cambiamenti climatici su questo territorio pensiamo che sia un modello perché capire la struttura di un territorio capire in che maniera può essere impattata dal cambiamento climatico che è purtroppo un fenomeno che interessa non solo ischia ma che interessa italia l'europa il mondo è la modalità più corretta per poter fare degli interventi che siano sostenibili nel tempo e quindi siamo molto orgogliosi di partecipare in questo in questo progetto e siamo molto orgogliosi perché pensiamo che effettivamente sulla base dei risultati che non riusciremo a avere si potrà operare una ricostruzione che sia appunto sostenibile che sia a vantaggio di tutti i benefici la banca europea per gli investimenti ha una lunga tradizione di lavoro con i territori con le comunità locali e quello che a noi interessa vedere come un progetto si inserisce all'interno del territorio come si come si inserisce all'interno della società e partecipare eventi come quello di oggi che è anche un evento in cui abbiamo tutti gli attori coinvolti in questo processo compresa la società civile compresi i rappresentanti dei comuni è un modo di condivisione del progetto un modo di condivisione di quelli che sono i risultati perché si possono arrivare a delle soluzioni condivise che offrano un beneficio per tutti purtroppo sappiamo che le calamità climatiche le calamità geologiche possono capitare in qualsiasi momento dell'anno e sappiamo che il cambiamento climatico comporta degli impatti e delle conseguenze in tutti i territori nei territori in cui non piove in territori dove piove molto nei territori dove variano le precipitazioni quindi è qualcosa di cui dobbiamo essere consapevoli dobbiamo essere consapevoli che purtroppo dovremmo far fronte a questi fenomeni e quindi dobbiamo mettere in atto il prima possibile quelli che sono degli interventi di mitigazione quindi per evitare che possano succedere alcuni fenomeni e di adattamento quindi di adattarsi al fatto che purtroppo il clima è cambiato che ci possono essere dei fenomeni che succedono quindi dobbiamo avere sul territorio le infrastrutture e le strutture abitative che ci permettono di convivere con questa realtà che sta cambiando Ovviamente soddisfatto dello studio portato avanti dalla Banca Europea degli Investimenti anche il commissario straordinario Giovanni Legnini che parla di un territorio, quello isolano pronto ad essere più resiliente La Banca Europea degli Investimenti, la Vicepresidente Migliotti che ringrazio insieme a tutto il team e gli scienziati incaricati dalla BEI, oggi ci consegnano questo rapporto che contiene gli elementi di analisi, le previsioni fino al 2050 legate al cambiamento climatico e le indicazioni a osservare per rendere il territorio più sicuro, più resiliente. Non si tratta di sfondere all'abiturismo, al contrario, si tratta di tener conto con realismo di ciò che potrà accadere nei prossimi decenni soprattutto di fare in modo che i progetti e i lavori riguardanti la messa in sicurezza della ricostruzione tengano conto di questi elementi. L'opera di adattamento al cambiamento climatico inizia per quel che riguarda questo territorio dagli interventi della ricostruzione questa è la novità, è una novità importante, è la prima volta in una ricostruzione post-catastrofe naturale che si introduce a questo criterio quello dell'adattamento al cambiamento climatico Questa sera ovviamente per chi ci segue venerdì 19 aprile nuovo appuntamento con il format di approfondimento di Nuvola TV Ultimo Round. Tema della puntata in onda in diretta alle 21 e poi in replica alle ore 23 perché il commercio è in crisi. Ospiti in trasmissione il sindaco di Forio Stani Verde, il vicepresidente di Ischia Ismor Lino Sgambati, il presidente di Confesercenti Ischia Francesco Pezzullo e il vicepresidente nazionale di Confesercenti Vincenzo Schiavo. E adesso torniamo alla cronaca, momenti di panico e paura, quelli che si sono vissuti questa mattina a Napoli presso lo scalo del Molo Beverello quando la nave veloce isola di Procida della compagnia di navigazione Caremar partita da Capri ha urtato una banchina durante le operazioni di Ormeggio. Sarà l'analisi della scatola nera, chiarire la dinamica dell'incidente al Molo Beverello a Napoli dove in mattinata di oggi la nave veloce isola di Procida ha urtato con violenza la banchina durante la manovra di Ormeggio. 44 i feriti nell'impatto, tanta la paura a bordo, momenti di concitazione nelle fasi successive allo scontro prima dell'arrivo dei soccorsi. I passeggeri erano già quasi tutti in piedi e pronti a sbarcare quando la nave ha impattato contro il Molo. In tanti sono caduti, alcuni anche dalle scale finendo nel pianerottolo. I soccorsi sono arrivati presto al Beverello, sono confluite diverse ambulanze, alla fine si registrano 44 feriti. Tra coloro che sono stati trasportati con ambulanze e quelli che vi si sono recati con mezzi propri 6 le persone arrivate al Cardarelli, 2 al San Paolo, 13 all'ospedale del Mare, 5 al CTO, 3 al Fatebene Fratelli, 3 a Villa Betania e 12 al Pellegrini. Sono tutti, secondo quanto si apprende, in codice verde o giallo. Un ferito era stato ricoverato in codice rosso all'ospedale del Mare ma le sue condizioni sono migliorate ed è passato in codice giallo. Ero in cima alle scale, in prima fila davanti a tutti gli altri passeggeri, mentre la nave si avvicinava alla banchina per ormeggiare. Poi all'improvviso sono precipitato giù e mi sono ritrovato sul pianerottolo. Per fortuna non ho battuto la testa ma solo un polpaccio e una spalla, racconta Salvatore, uno dei passeggeri feriti. Ancora scossa dalla brutta esperienza una turista italiana originaria del nord Italia, racconta i cronisti. Una botta fortissima, ho preso un colpo violento al volto, ho visto tante persone cadere a terra, eravamo stati a Capri, una vacanza in questi giorni. Non avrei mai potuto immaginare questa conclusione del nostro viaggio. I dati del voyage data recorder della scatola nera aiuteranno l'autorità marittima a stabilire se la causa dell'incidente sia stato un guasto tecnico, come ritiene la compagnia di navigazione, un errore umano o se la colpa sia una forte raffica di vento. Ad occuparsi delle indagini è l'unità investigativa della Guardia Costiera che presenterà i risultati raccolti al Dipartimento per la Sicurezza della Navigazione e alla Procura di Napoli. Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche l'ammiraglio ispettore Pietro Giuseppe Vella, direttore marittimo della Campania, che ha coordinato le attività di assistenza ai passeggeri ed anche i primi accertamenti. La nave intanto resta ormeggiata a Molo Beverello a disposizione della Guardia Costiera e del Registro Navale Italiana, con le conseguenze dell'urto ben visibili. Nel comune di Barano sono in atto una serie di interventi di riqualificazione del territorio, in special modo nella zona dei Maronti. Abbiamo analizzato la situazione attuale dello Stato dell'Arte con il sindaco del comune collinare Dionigi Gaudioso, con una particolare attenzione sulla pericolosità di un nuovo tratto di costone della spiaggia, ma anche sulla veste rinnovata che sta assumendo la zona balneare. Sindaco Gaudioso, la spiaggia dei Maronti presenta delle criticità, e in particolare nel tratto di spiaggia che va dalla gondola a Cavascura e quindi con apposita ordinanza è stato interdetto il transito. Sì, purtroppo abbiamo avuto una frana nel mese di fine febbraio dove ha creato problemi, si è rotto un costone e io già sto interlocuendo con la Regione e mi auguro prima possibile di intervenire per consentire, visti che adesso c'è la spiaggia, a tutti di poter passeggiare anche alle attività, perché chiaramente là può creare problemi a tutta la zona di Cavascura e anche agli alberghi che stanno avanti. Mi auguro di risolvere il problema prima possibile. Ecco, per quanto riguarda la strada di accesso giù alla spiaggia, abbiamo notato che sono dei lavori in corso di riqualificazione del territorio. Sì, come avevamo promesso, stiamo facendo dei marciapiedi con gli stalli a fianco, anche se penso lavoreremo ancora per poco e poi interromperemo i lavori per riprendere a novembre di quest'anno. Credo che sta cambiando a look la strada dei Maronti, già nel passato quando abbiamo fatto il primo belvedere con le aiole già è cambiato qualcosa. Adesso stiamo cercando di dare sicurezza ai cittadini, visto che prima si camminava in mezzo alla strada, quindi il marciapiede forse non sarà neanche grande, ma almeno c'è un marciapiede per far camminare il più possibile i pedoni. Adesso era sempre occupato dalle macchine, è inutile che diciamo che c'era un marciapiede largo, ma il marciapiede non veniva mai utilizzato dai pedoni, non era possibile, quindi questa è la verità. Credo che adesso anche esteticamente è più bello, ma penso che i pedoni lo possono anche utilizzare. Ecco, ed è notizia di qualche giorno fa che si apre ufficialmente la stagione degli eventi proprio in piazza dei Maronti, che diventa, si riconferma, teatro naturale dopo il concerto che ha chiuso l'estate. Sì, noi inizieremo con questo evento importante, questo è stato appunto finanziato dalla Regione Campania, poi faremo qualche altro evento intorno al mese di maggio, inizio giugno, per poi farlo a settembre, perché poi durante l'estate ci saranno altri eventi sia in Pineta e anche altre attività, quindi non vogliamo assolutamente danneggiare le nostre attività, ma vogliamo cercare di implementare nella bassa stagione e non nell'alta stagione. Nell'alta stagione quindi non faremo noi eventi, ma li faranno penso i privati, già abbiamo degli accordi. Restiamo più o meno in argomento, perché prosegue il progetto di ripascimento degli arenili dell'isola d'Ischia, che come ricorderanno i nostri più attenti telespettatori, vede il comune di L'Acquameno quale capofila. Ai nostri microfoni l'esponente della categoria dei balneari di Fibacomfesercenti, vale a dire Giuseppe Lafranca, ci spiega tutti i dettagli, o meglio lo fa al microfono di Elena Mazzella. Giuseppe Lafranca, la Fibacomfesercenti, ha comunicato che finalmente dopo varie sollecitazioni è stato affidato il ripascimento delle spiagge isolane. È stato affidato, salve a tutti, è stata affidata la progettazione del ripascimento. Noi questa è una questione che siamo, già da diversi anni che stiamo sollecitando, e nel 2017 era operativa questa situazione. quindi si doveva essere affidato tra tutti i... gli enti che richiedono sono i sei comuni, con l'amministrazione, con i fondi regionali, e quindi su questo è stata affidata la progettazione. Purtroppo ci vorranno altri sei mesi, però già è una cosa che abbiamo sbloccato, la situazione che stava creando dei problemi. Da un anno era tutto bloccato, quindi su questa questione stiamo vedendo di risolvere la situazione. Allora, logicamente il ripascimento degli aree nidi non si farà come è stato fatto ai Maronti all'epoca, senza un'adeguata protezione di scogliere, perché senza una protezione di scogliere francifrutti non serve a niente il ripascimento, quindi è paliativo, perché basta una mareggiata e si è dimostrata anche a Ostia, che è stata il capofila dei ripascimenti in Italia, della spiaggia, e in sei mesi la spiaggia è diminuita. Con le ultime mareggiate, che stanno facendo le mareggiate invernali, ogni anno le mareggiate diventano sempre più forti, quindi se non c'è un'adeguata protezione di scogliere francifrutte emerse e non soffolte, non servono a niente altre situazioni. Sono soldi buttati a mare. Noi come stabilimenti Banea abbiamo offerto pure la nostra collaborazione a contribuire a fare, tipo col consorzio, un'unione, già da diversi anni abbiamo richiesto e non ci è stato concesso fino adesso, anche perché il posto spiaggia è importante, proprio in questa problematica con la Borghestein, con il rilascio delle concessioni di maniera, altre situazioni, noi vogliamo mettere a disposizione della cittadinanza e dei turismi e offrire la nostra forza. Ecco, in particolare qui ci troviamo sulla spiaggia di San Pietro, la situazione anche qui è critica? Cioè, critica? No, sì, allora la situazione, in poche parole, noi abbiamo fatto un incontro col sindaco di Schia, le due associazioni, la FIBA e il Sib, quindi su questo, perché quest'inverno c'è stata un po' di erosione nella zona centrale della spiaggia, anche laterale, e poi ha fatto quella sciroccata forte proprio a Pasqua e Pasquetta, quindi l'ha ridotto un pochettino, è stato fatto caldissimo, però il mare era agitato, e quindi è eroso, lo scirocco eroso della spiaggia, e quindi su questo abbiamo presentato un'istanza per la richiesta di autorizzazione, di rinnovo dell'autorizzazione per lo spostamento della spiaggia con pale meccaniche al fine di risistemare le spiagge erose. Su questa situazione, siamo in attesa dell'autorizzazione del sindaco e poi vorremmo iniziare quanto più verso metà maggio, almeno così quando il tempo si assesta, perché ecco qua la situazione, noi fatto quel sabato è domenica, troppo caldo, temperatura, noi eravamo chiusi i stabilimenti balneari, però stavano la gente, stavano a mare, tutti quali, troppo caldo, quindi non va, quindi è previsto, alcuni alberghi aprono il 24 e il 25, molti stabilimenti balneari apriranno, ma molti apriranno inizi di maggio, il 5-6 maggio, anche per riferire la sistemazione con la pulizia delle spiagge e altre situazioni. Noi su questo auspichiamo da parte delle amministrazioni un aiuto alla categoria dei balneari. Con una nota ufficiale il liceo Buchner di Ischia comunica l'avvenuto scambio interculturale con studenti provenienti da diversi paesi internazionali. Nello specifico si legge nella mattinata del 9 aprile una piccola delegazione di studenti provenienti da Tailandia, Cile, Messico, Serbia, Germania, Turchia, Giappone e Argentina in Italia grazie a Intercultura hanno incontrato scusate alcuni studenti delle classi seconde del liceo. è stato un evento eccezionale e un'occasione di scambio culturale che ha reso la scuola ombelico del mondo per un giorno. Gli ospiti stranieri hanno animato un laboratorio linguistico con i nostri liceali e hanno poi partecipato a un workshop nel laboratorio artistico con la professoressa Luisa Caccavale. Siamo orgogliosi conclude la nota del Plesso Ischitano di aggiungere che una nostra studentessa di una quarta scientifico Leda Ismaili vincitrice di Borsa di Studio Intercultura è in Argentina e completerà il suo progetto didattico e culturale ad agosto 2024. E adesso la pagina sportiva domenica torna in campo Lischia impegnata nella delicata trasferta contro il Trastevere oggi ha parlato in conferenza stampa mister Enrico Buonocore che non nasconde la voglia matta di giallo-blu di provare a confermare la prestigiosa e inattesa inizio stagione seconda posizione in classifica. È una partita di vedere loro hanno una buonissima squadra in casa sono più forti che quando vanno in trasferta hanno dei buonissimi giocatori in tutti i reparti sarà una partita molto difficile perché noi giochiamo contro una squadra che che ha 38 punti e deve fare almeno un'altra vittoria per tirarsi fuori quindi hanno noi domenica poi c'è la nocerina quindi non sarà facile andiamo contro una squadra difficile che vorrà vincere perché si devono tirare fuori perché 38 punti non sei fuori dalla zona insomma quindi rischi quindi sicuramente sarà una partita difficile quello che è stato domenica scorsa non è veridiero quindi sicuramente sarà tutto diverso domenica per noi e se non andiamo con la concentrazione la voglia determinazione o quello che bisogna fare per andarli a andare a giocare nei punti deboli che ci hanno possiamo avere delle difficoltà quindi noi questa cosa lo sappiamo sappiamo che per noi è una partita importante perché dobbiamo avere possiamo domenica dopo la partita essere ancora secondi quindi adesso tocca a noi insomma tutto quello che è noi arrivare secondi per noi ci vogliamo provare ci dobbiamo provare domenica pomeriggio alle 16.30 scontro importante anche nel campionato di eccellenza Pomigliano-Real Forio vale un pezzo di salvezza per i biancoverdi abbiamo già sentito ieri le dichiarazioni di Sanchez un'occhiata alle previsioni meteo ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano weekend che inizia con nuovo maltempo per la nostra penisola vediamo però nel dettaglio le previsioni per sabato 20 aprile piogge e acquazioni sparse al mattino sul nord-est Emilia Romagna e regioni del centro con neve oltre i 1200 metri variabilità asciutta altrove al pomeriggio condizioni di tempo instabile su buona parte della penisola con piogge e temporali sparsi neve oltre i 900 a 1300 metri su Alpi e Appennino più asciutto su Calabria e Isole Maggiori in serata è notato ancora fenomeni soprattutto su regioni adriatiche e settori peninsulari del sud neve fin verso i 900 mille metri temperature minime in calo al centro-sud e in rialzo al nord massime in diminuzione al centro-nord e in aumento altrove per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo un saluto da parte del centro-meteo italiano è tutto per questa edizione del nostro telegiornale che torna lunedì sempre alle 20.30 sempre in diretta e sempre sul canale 80 del Digitale Terrestre continuate a seguirci anche in questo weekend ultimo round il venerdì piazza Pontone il sabato la Santa Messa in diretta alle 9.30 la domenica e poi insomma tanta 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 roba il palinsesto è consultabile sul nostro portale nuvola.tv sulla nostra pagina facebook grazie per essere stati con noi e arrivederci a te a te Grazie a tutti.